Parte guerriero, finta, destro, ha preso anche questo, ha preso anche questo, che sta... Era la stagione 2018-2019 quando il serino annunciò l'arrivo di un estremo difensore venuto da lontano, dal Senegal, con precisione. Dia, Ass, ora è tornato in Irpini a Castelfranci per difendere i pali della polisportiva di mister Ciro Tropeano. Sempre attento, vola come un gatto ricordando me Gnan del Milan. Dia, classe 93, ha parato in otto giornate quattro calci di rigore, due nella stessa partita a Giliberto Guerriero della Modena Monteforte, respingendo con freddezza e calma i tre dal dischetto del forte cetra avanti di Capriglierpina. Gli altri respinti ad Oladapo del Montoro e Antonio Guerriero alla prima giornata all'Alta Villa e le sue parate dai 11 metri hanno consentito ai rossi di strappare 12 punti. Quello che colpisce di lui è la gentilezza e l'umiltà. Per lui anche esperienze in Germania e in Calabria ed ha sempre lasciato il segno. Protagonista anche di una brutta pagina di razzismo nella stagione 18-19, quando durante la partita Serino Real Sarno, secondo la denuncia dell'estremo difensore, sarebbe stato insultato dal direttore di gara con accettivi riguardosi sul suo colore della pelle. Storie passate, l'autualità parla di un giocatore che ha riconosciuto in Donato Trotta un secondo padre e quello ha voluto fortemente riportare in Irpinia. Chi dedichi a questi rigori parati? Donato Trotta, è come mio padre.